Opa, c'è bene! C'è bene? E' bene. E' bene. Ok, ah, dieci? Ok. Ok, perfetto, grazie. Vi porto uno scontrino. Ok, c'è bene. Sì, sì, sì. Sì... Quanto c'è la radica? Quanto c'è la radica? Sì... Poi c'è un po' di nuovo, per favorevole un po' di nuovo... Quindi... Poi di nuovo, a te metto, da un po' di nuovo... Ho giusto il po' di nuovo... Ho giusto il po' di nuovo... Seguro il po' di nuovo 150kg? Non so... ... ... ... ... ... ... ... 땡볼 나왔어요, 땡볼. 돈 벌기 어렵다. 돈 버는 게 쉽지 않지. 본업이 제일 낫다. 본업이 제일 낫다. 본업이 낫다. 그래서 나는 이게 제일 난가 보다. 나는 이게 제일 재밌어. 야, 이 말도 안 되는 가게에 이런 도시락 봤냐? 나폴리, 친절했던 나폴리 분들에 대한 마지막 선물. 몇 명 남았어? 보고 올게요. 예이! ... 23인분 정도 남았습니다. 오케이. 앞으로 23개 나오면 돼요. 어? 계란머리가 없어요, 선생님. 방법을 찾으면, 해결책을 찾으면 된다고 그랬죠? 자, 그럼 지금 뭘 해야 되죠? 계란, 계란 후라이 하겠습니다. 계란 후라이어. 스크램블 좋아하시죠? 스크램블 해야 돼요. 참기름 났어? 아니, 안 났어? 참기름 났어요. 맛있겠어요? 백종원의 요리책에서 봤어요. 어? 오빠 거? 너 이렇게 오래 걸려. 왜? 밥부터 싸줄게. 왜? 백종원의 요리책에서 봤어요. 뭐라고 하지 마세요? 차라리 가위로 잘랐어야지. 거기서 유튜브에서 안 가르쳐 줬어요? 맞는 말이에요. 너 팀원이야? 저 팀원, 초창기 팀원이에요. 잘해야지, 팀원들한테. 자, 나와. 잘해 주세요. 잘해 주세요. 잘해 주세요. 어떻게 더 어떻게 하면. 네, from работает. 안 돼 Ladies. 잘해 주세요. 네, 잘해. 감사합니다 님. 네, Vince. Grazie! Scatelchio! ötti piglie! Ciao! Asc волuani per pent terminate! Ah... Anjei dove c'è? бу sphereshane! Sì, ok. Muslime due voi? Qui c'è? Qui c'è? Special line. Ok. Que c'è? 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 Allora l'inizio a dare a queste ragazze qua. Ok. Prego, altri due. Ok. Grazie. Ok, perfetta. Grazie ragazze, arrivederci. Ok. Ha, hai, tui. Ona, sphetaak 알려za. Ich dira hier, mächtein saai, 어마어마한 실력이 된 거라. Ha. C'è? Ok. Buong jonge, Natta. Grazie. Sì, abbiamo 6 volte. 6 volte. 6 volte. 6 volte. Grazie! 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 Arrivederci! Finito! Finito! 퇴근이 제일 즐겁다. 와, 밥 다 팔렸어? 두 통 했는데 다 팔렸어. 없어, 아예. 더 있었으면 더 팔았지. 대박이다. 봉투라도 있어야 되는 거 아닌가요? 아, 급이요? 이게 파비오, 이게 시모네. 파비오, 시모네. 자, 파비오! 고생했어요. 네, 감사합니다. 시모네. 감사합니다. 혹시 계산해봐서 안 맞으면 다시 얘기해. 네. 너무 열심히 일해줘서 우리가 조금 더. 아, 네. 감사합니다. 처음에 수고하셨어요. 수고하셨습니다. 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 수고 많았어. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 뭐라고 그랬는데, 그래? 너무 아쉽나 봐요, 유리가. 아니, 저의 무� Smoko Wan permitsει 자� transmission. 아니, 제일 모르고isser 고시는 사람이 왜 저래? 원래 다 그런 거지. 어떻게 해. Sì, sì, sì. Si eseru molto tempo? Ho stato molto tempo? Grazie a tutti! Ciao! Ciao! Ohi! Good morning! Buon giorno! Si! 1, 2, 3, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13. Ah, tante! E questo? Allora? Sì, non so inizia. Quero aggiungeremo, per gli ingredienti? Quero aggiungeremo. Ho, una? Siamo a giù? No. Eppucca. Si è piuttosto bene. E sottonelle storie del canale, chiede a rilassare. 3, 2, 3. Sì, 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 sì. È tutto bene? Sì. Sì. Non è vero. Sì. 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 grazie a tutti Sì, sono stati molto amici, tutti. Sì, sono stati molto amici. Sì, sono stati molto amici. Ci sono stati molto amici. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oli è venuto www.mesmerism.info ... 419 ... 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 Grazie per la sua patienza. Che fa sensazione? Ha fatto un po' di sottola. Ha fatto un po' di sottola. Ha fatto un po' di sottola. Ha fatto un po' di sottola americana. Ce ne volevo mangiare questa cosa. Perché ci torno? Lo mangio buonissimo. Non c'è un po' di sottola. Un po' di perm leaked riconoscritto. MiaNo! 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 Un po' di salir al lago! Come Bakuraigi restate, 7,787 euro! 7,787 euro! Wow! Non c'è una cosa! 7,787 euro! Oh! Non c'è una cosa! E' un po' di 7000 euro! 7000 euro! 7000 euro! 7000 euro! 근데 중요한 건 재방문율이야! 이게 가능성을 얘기하는 거거든! 재방문율은 드셔서 뭔가 입에 맞아야 되는 거고 생각이 다시 나야 오는 거지! 그리고 또 올 때 가족들이랑 같이 온다는 건 대단한 거거든! 여러 팀이 있었어요! 그렇지! 근데 진짜! 우리 è stato proprio... ...diant anno, 7 anni... ...evo, questo è stato stato di potente. ... 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 Non c'è? Non c'è Non c'è chi io che devo Sottotitoli Cosa La domanda, ci sono lì Cosa La scuola Cosa 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 Sì, sì, sì. No, 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 no. Mi sembrava. Sì, è stato un po' di tutto. E, è un po' di tutto. Ma non è sempre così. Non è così, non è così. È un po' di tutto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Ho un'ottica, non ci senti. Ma non ho un'ottica, non ho un'ottica. Non ho un'ottica, non ho un'ottica. Ma allora, molto. Oh, sì. Il mani nello, lo so. Mepi che non si può fare poi? Ci sono di più, anche se. E poi? Oppure? Oggi ci sono tutti. Ah, che è importante. Sì, prima. Sì. 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 Sì.